Anche questa settimana si osserva una diminuzione del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa intorno a 283 casi per 100.000 abitanti. L'RT anche mostra una tendenza al decremento, siamo a 0,95 e quindi al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 10,4% e al 2,4%. Si osserva quindi una sostanziale stabilizzazione rispetto alla settimana precedente senza alcun fenomeno di congestione delle strutture sanitarie.